Il popolo nerazzurro sta per finire. Una manciata di ore e Rafa Benitez potrà sedere sulla panchina già di Murigno, cercando di frastingere in fretta il suo ricordo. In vacanza a Porto Cervo fino a mercoledì, il tecnico spagnolo attende oggi la visita del direttore tecnico interista Branca per mettere a punto i dettagli di un accordo che potrebbe essere firmato domani. Intesa, secondo indiscrezioni, che dovrebbe legare la società di Moratti e l'allenatore per i prossimi tre anni, con un'opzione sul quarto, quanto basta per continuare il ciclo fortunato aperto dall'Inter. Un livello ben conosciuto da Benitez, vincitore di una Coppa UEFA con il Valencia e di una Supercoppa Europea una Champions League, strappata al Milan con il Liverpool. Un curriculum di tutto rispetto, in cui spiccano anche un paio di Liga Spagnole e una FA Cup. E' impreziosito dalla preferenza per un impianto di gioco, il 4-2-3-1 chiave di volta dei recenti successi nerazzurri. Benitez pare anche l'uomo adatto per far arrivare a Milano giocatori come l'argentino Mascherano, suo pupillo in Inghilterra, e l'hollandese Kuit, altro pretoriano di fiducia e tutto fare d'attacco, e con la possibilità che da Palermo faccia Capolino Cavani.